il dipartimento di economia attiva presso la sede di varese il corso di laurea triennale in economia e management si tratta di un corso di laurea ormai consolidato con un'esperienza pluriennale che nel tempo ha saputo adattare i contenuti del proprio percorso formativo alle evoluzioni del contesto economico ai mutamenti negli obiettivi delle imprese alle caratteristiche del mercato del lavoro e delle professioni oggi gli studi in ambito economico aziendale assicurano una preparazione e una formazione culturale ampia diversificata e non solo settoriale consentono agli studenti di acquisire e saper applicare gli strumenti per la comprensione e la critica della realtà economica e sociale il mondo parla il linguaggio dell'economia e in un mondo sempre più globalizzato saper prendere decisioni economiche in modo consapevole è una condizione di successo che si applica alle scelte dei governi delle imprese e dei singoli individui riteniamo che l'attuale percorso di studi possa assicurare un efficace apprendimento delle conoscenze di base e di metodo in quattro principali ambiti le discipline economiche le materie aziendali gli insegnamenti quantitativi e le discipline giuridiche cosa ci aspettiamo che sappiano fare i nostri laureati il corso di studi prepara professionisti nel campo della gestione dell'organizzazione e del controllo delle imprese in campo contabile e finanziario e nei rapporti tra imprese mercati e istituzioni per raggiungere gli obiettivi formativi previsti le attività didattiche sono state organizzate in una successione e combinazione di insegnamenti riconducibili alle quattro aree qui rappresentate per consentire agli studenti di acquisire le conoscenze e le competenze specifiche di ciascun ambito e quindi con la possibilità di ottenere al termine del percorso di studi una formazione su tematiche economiche e gestionali di base a 360 gradi il corso di laurea è erogato anche in modalità part time con un piano di studi analogo al corso di laurea triennale ma della durata di quattro anni tale percorso è indirizzato soprattutto a persone che lavorano e che in tal modo possono conciliare le esigenze e gli orari dell'attività professionale con lo studio a tal fine le lezioni sono di norma calendarizzate in orari serali e il sabato mattina ed è prevista una forte interazione online con i docenti attraverso la piattaforma e learning dal prossimo anno accademico il corso di laurea in economia e management sarà ad accesso programmato il criterio che verrà adottato sarà quello dell'esaurimento dei posti ovvero le domande di immatricolazione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione sino ad esaurimento dei posti disponibili non vi è quindi un test selettivo all'immatricolazione saranno complessivamente disponibili 640 posti considerando congiuntamente il corso di laurea di urno e quello erogato in modalità part time di cui 40 riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero le scadenze il dettaglio sulle modalità di accesso e i termini di partecipazione verranno definiti in un apposito bando che sarà pubblicato a inizio luglio sebbene non sia previsto un test di accesso tutti gli studenti che si immatricolano al primo anno del corso di laurea in economia e management devono sostenere e superare un test di verifica della preparazione iniziale volto ad accertare le loro conoscenze di base in matematica tale test sarà somministrato attraverso la piattaforma e learning e potrà essere sostenuto una o più volte nelle diverse sessioni che saranno organizzate nell'intero anno accademico il test costituito da 18 domande a cui lo studente dovrà rispondere in un tempo limite di 40 minuti si considera superare se verrà raggiunta una soglia di risposte corrette pari al 50 per cento del totale le modalità di svolgimento e le condizioni di superamento e di esonero sono riportate nella pagina web del corso di laurea e dopo la laurea triennale l'offerta formativa del dipartimento si completa con due percorsi di laurea magistrale il percorso global entrepreneurship economics and management è un percorso biennale interamente in lingua inglese focalizzato sulle tematiche dell'innovazione dell'imprenditorialità e dell'internazionalizzazione e offre agli studenti la possibilità di conseguire il titolo double degree grazie agli accordi con alcune università straniere il corso di laurea in economia diritto e finanza di impresa è in lingua italiana ed è un percorso biennale specializzato nelle tematiche del diritto di impresa e in ambito bancario e finanziario sul nostro sito web e nelle pagine social dell'ateneo e del dipartimento potete trovare regolarmente aggiornate tutte le informazioni sia sui percorsi formativi offerti dal dipartimento sia sulle iniziative a supporto degli studenti legate sia all'attività didattica sia alle attività di orientamento e placement